Credi che le vacanze siano tutte uguali? I nostri clienti no. 9 su 10 raccomandano Costa. E tu cosa aspetti? Scegli l'eccellenza italiana. Potrai goderti ogni giorno il meglio delle ricette regionali, la nostra inconfondibile ospitalità e serate all'insegna del divertimento. E c'è una grande novità. Prenota subito la tua crociera Costa. E se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo l'intera vacanza. Costa, il modo italiano di scoprire il mondo. Costa, il modo italiano di scoprire il mondo.